Eh sì, è stato un esordio buono, sono riuscito a conquistare questo rigore che va al sui tre punti. Un rigore che era solare, c'era no? No, no, un rigore nettissimo, ho letto pure qualcuno che ha detto che non era un rigore netto, ma più netto di così è impossibile. Quanto riguarda me, dovevo trovare la condizione migliore, sto cercando di spingere in allenamento per arrivare al 100%, ho bisogno di qualche partita di rotaggio, ma mi sento comunque abbastanza bene. Sei uno dei nuovi, anche se hai già esordito, come ricordavi. Che gruppo hai trovato? Ah beh, il gruppo è bellissimo, onestamente sono arrivato da sei giorni e mi sento come se ci stessi da tanto tempo, quindi mi hanno accolto benissimo, sono veramente un bel gruppo. Proviamo a scattare la classica fotografia, che tipo di giocatore sei? Io sono un trequartista, un esterno d'attacco, mi piace giocare più vicino alla porta, partendo sempre un po' da destra o comunque dalla trequartia al centro. Niente, penso di avere nella mia carriera comunque la palla, l'assist, insomma la palla golle e qualche gol sulle gambe, quindi un giocatore tecnico che mi piace giocare col pallone. Tommaso, che tipo di scelta è stata la tua? Che cosa ti ha convinto? Mi ha convinto il progetto che mi è stato prospettato, la voglia di avermi tanto dentro questa squadra, dentro questa società, è il primo anno che scendo in Serie D e vorrei cercare con tutto me stesso di fare un campionato importante per aiutare la squadra a togliersi grandi soddisfazioni. Grazie a tutti.